Musica Nuovo quotidiano di Puglia Bregovic, prove per la notte della Taranta Ecco le mie novità per il concertone L'incontro tra musica tradizionale salentina e quella dei Balcani è l'incontro di due musiche senza armonia e quindi un incontro più facile perché si suona distinto È l'ora delle prove per Goran Bregovic l'artista dei Balcani chiamato quest'anno a sostituire Luigi Enaudi come nuovo maestro concertatore della notte della Taranta nel tradizionale concertone finale che si terrà il 25 agosto a Melpignano Lecce prima Ecstasi e Maria per la notte più lunga presi anche due diciottenni Originari di Napoli sono stati denunciati insieme ad un amico di 23 anni avevano MDMA altre 15 pasticche erano nascoste nel bagno di casa a copertino due arresti da una Toyota vola nelle campagne un etto di marijuana Salento Report Bazar all'ingrosso di CD e DVD senza marchio SIAE sequestrati Tre Puzzi sequestrati 2957 capi e accessori di abbigliamento illecitamente contraffatti e 240 supporti informatici illecitamente riprodotti in quanto privi del marchio SIAE due cittadini senegalesi avevano allestito nel proprio appartamento un vero e proprio bazar all'ingrosso Il Paese Nuovo Condotta sottomarina per lo scarico dei reflui Romina Power scrive a Vendola Lettera è inviata da Romina Power al quotidiano romano Il Trastevere già inoltrata e indirizzata al presidente Vendola in merito alla questione Porto Cesare o nello specifico progetto di condotta sottomarina per lo scarico dei reflui Mi piange il cuore, dice la Power per sapere che la bellissima Puglia con spiagge uniche e ammirate da gente di tutto il mondo diventi invece una pattumiera galleggiante apportatrice di malattie ci dimostri, signor Presidente che esiste veramente un'Italia migliore intervenendo e vietando questo progetto Il Tacco d'Italia una valle di memorie è un suggestivo complesso rupestre vicino a Otranto la Valle delle Memorie uno scrigno di siti storici di grotte e di caverne isolate o presenti in piccole aggregazioni scavate dall'uomo nella roccia e usate probabilmente per seppellire intere famiglie il monumento è molto particolare perché nonostante la costruzione esterna prolungata verso l'alto nasconde al di sotto una struttura ipogea scavata nella roccia con pianta a croce latina Un saluto a tutti i salentini in Italia e nel mondo Appuntamento a domani con la rassegna stampa di salentoreport.it Grazie a tutti i saluti